Il miglior video della storia Questo lo deciderà il pubblico Il pubblico ama sui Alex, quindi è ovvio Non dimenticare che lo devi a me Senza likes saresti in modalità tutorial Per questo non devi abbassare la guardia O farai la fine della tua ragazza con il cobra Carmine era sulla cima e ora... Puff! Ha perso la rotta E se le regalassi un GPS? E se lo regalassi a te per orientarti? Spegni la modalità LOL Ma perché dovrai finire con me Carmine? Non so se andrà così, tutto dipende da come ti comporti Via! Che bello vederti Sapevo che alla fine ci avresti dato il tuo like Voglio solo parlare con Alex Se hai qualcosa da dirmi, non mi interessa Basta con questa storia Non ti permetterò più di attaccare la mia famiglia Mia sorella non è un'assassina E quello striscione è una menzogna Come tutto quello che ha detto la tua famiglia Aspetta, aspetta, forse c'è un equivoco Il tuo odio non sporcherà il mio cognome Alex Non so di che cosa parla Io non ho messo nessuno striscione Sicuramente Manuel ti ha riempito la testa di bugie Perché è un bugiardo L'unico bugiardo qui sei tu Ed è l'ultima volta che te lo dico Non offendere mai più la mia famiglia Hai capito? Che hai fatto Alex? Marcos, credi di più alla parola di Bia che alla mia Finché non dimostri che Bia si sbaglia Se non vuoi fare la fine di Carmine Cambia strategia e Anna svelta Grazie a tutti